Siete pronti per la prossima vincente puntata di Endless Love? Stavolta ci aspetta una serata esplosiva tra Kemal e Nian, mentre Emir prepara un colpo finale contro Zainep, che lascerà tutti senza parole. Durante la puntata speciale di sabato 11 maggio, vedremo Kemal impegnato a risolvere un problema urgente nei villaggi, l'approvvigionamento dell'acqua. Un problema che, ancora una volta, ha le sue radici negli intrighi di Emir, che ha orchestrato tutto per scaricare la colpa su Kemal e farlo passare come il nemico pubblico numero uno. Ma il nostro eroe non si lascia intimidire, e con la sua determinazione si lancia in una missione disperata per guadagnarsi di nuovo la fiducia della comunità. Nel frattempo, Nian e Ozan salutano Leila e si incamminano verso casa, ma l'atmosfera si fa subito tesa. Nian, cercando un momento di complicità, chiede al fratello cosa ne pensi della loro zia appena ritrovata. Ozan, con uno sguardo carico di sospetto, risponde che non sa ancora se gli piace o meno, dato che non la conosce affatto. Ma Nian non si lascia scoraggiare, e rivela che lei ha amato Leila fin dal primo incontro, senza nemmeno sapere che fosse loro zia. Ozan non la prende bene, irritato, le fa notare che come figli di Vildan dovrebbero stare attenti a fidarsi di una donna che conoscono così poco. Ma Nian non ha intenzione di fare marcia indietro, e sostiene con forza che non possono ignorare le colpe della loro madre. Questo fa scattare Ozan, che le rinfaccia di essersi fatta manipolare, e furioso si allontana lasciandola da sola. Nel frattempo, all'altro capo della città, Kemal è nel suo ufficio quando riceve una chiamata inaspettata da suo fratello Tariq. Tariq, orgoglioso, gli comunica di aver aiutato il loro padre pagando una multa. Ma le sue parole non trovano un fratello compiacente dall'altra parte della linea. Kemal infatti sa bene da dove provengono quei soldi. Sono macchiati dalla corruzione di Emir. Kemal, con la voce piena di disprezzo, rifiuta di accettare quei soldi e gli intima di restituirli immediatamente. Determinato a mantenere la sua integrità, gli chiede l'importo esatto della multa e gli trasferisce l'intera somma sul conto, minacciando di rivelare tutta la verità alla famiglia se Tariq dovesse osare restituirglieli. Poi, senza aggiungere altro, chiude la chiamata. Tariq rimane a fissare il telefono con il cuore pesante, combattuto tra la fedeltà alla sua famiglia e l'influenza sinistra di Emir. Ma le sorprese non sono finite. Mentre tutto questo accade, Emir è chiuso nel suo lussuoso ufficio, studiando attentamente le sue prossime mosse. Ha in mente un piano diabolico per infliggere il colpo finale a Zeynep e distruggere Kemal una volta per tutte. Sta lavorando nell'ombra, pronto a sferrare il colpo definitivo che potrebbe lasciare Kemal senza via d'uscita. Continuiamo con Zeynep. Seduta comodamente a casa sua, è immersa nel suo mondo, fissando le foto di Emir sul computer con uno sguardo sognante. Le immagini del suo amante la ipnotizzano, mentre sogna ad occhi aperti una vita lussuosa al suo fianco. Sua madre, la signora Fehime, esce tranquillamente per fare la spesa, lasciando Zeynep da sola con le sue fantasie e i suoi desideri. Dall'altra parte della strada, nascosto tra le ombre di un edificio, Ozan osserva attentamente. I suoi occhi scrutano ogni movimento e quando vede la signora Fehime allontanarsi, coglie l'occasione e si avvicina alla porta. Bussando con decisione, attende con impazienza. Zeynep, distratta dalle foto di Emir e pensando che sia sua madre, apre immediatamente la porta, ma appena vede Ozan sulla soglia, rimane di stucco. Perplessa e colta di sorpresa, gli chiede bruscamente di andarsene, ma Ozan non cede e insiste nel voler parlare con lei. Le confessa che non riesce a smettere di pensarla e che ormai lei gli ha rubato la mente. Zeynep, abituata alle provocazioni e sempre pronta al gioco, lo guarda con uno sguardo malizioso e gli risponde che anche lei lo pensa sempre. Poi, con un sorriso beffardo e ironico, gli chiude la porta in faccia, lasciandolo fuori come un ragazzo imbranato. Tornata nella sua stanza, riprende subito il controllo della situazione e chiama immediatamente Emir, che è in macchina, con l'aria del trionfatore. Gli racconta che Ozan la segue come un cagnolino perché è innamorato di lei. Emir, sicuro di sé e con tono sprezzante, minimizza la situazione dicendo che Ozan è solo un ragazzino e che non dovrebbe preoccuparsi troppo. Ma Zeynep, desiderosa di vedere il suo amante, gli chiede quando potranno incontrarsi. Emir, con la voce carica di desiderio, le propone di vedersi quella sera stessa, dicendo che vuole stare con lei e fermare il tempo. Zeynep gli spiega che non può uscire a causa delle rigide restrizioni imposte dalla sua famiglia, ma Emir, con la sua mente astuta, suggerisce di usare qualcuno come copertura, proponendo la socia di suo fratello, Asu. Zeynep riflette sulla proposta e inizia a pensare a come metterla in atto, immaginando già l'adrenalina dell'incontro segreto. Poco dopo la conversazione con Tarik, Kemal richiama Leila e si scusa per non aver risposto subito. Con voce agitata, Leila lo informa che la sua casa è presa d'assalto dai giornalisti e Kemal capisce immediatamente che anche questa volta c'è la mano di Emir, il suo astuto e spietato rivale. Tuttavia Leila aggiunge con tono più sereno che ha anche delle buone notizie da condividere con lui, ma preferisce farlo faccia a faccia. Deciso a proteggere Leila e a scoprire queste novità, Kemal si prepara a uscire dal suo ufficio. Ma prima che possa allontanarsi, viene avvistato da Asu, che si avvicina con un sorriso inquisitore e gli chiede dove stia andando. Kemal, mantenendo la calma, le risponde che ha intenzione di recarsi a casa dei suoi genitori perché suo padre sta attraversando un momento difficile. Asu, sempre intraprendente e pronta a cogliere ogni opportunità, si autoinvita con un sorriso affabile. Kemal, seppur a malincuore, non può fare altro che accettare e portarla con sé a casa dei suoi genitori. Mentre si avvicinano all'abitazione, Kemal riflette sulla visita imminente a Leila e sulle buone notizie che ha da condividere. La famiglia di Kemal è riunita per cena. L'aria è pesante, carica di segreti e sospetti. Kemal osserva suo padre, Hussein, con sguardo penetrante. Hussein evita il suo sguardo, visibilmente a disagio. La multa ricevuta grava come un macigno sulla serata. Kemal rompe il silenzio, La sua voce è un filo carico di insinuazioni. Accenna alla multa, lasciando intendere dubbi e illazioni. Asu, intuendo le sue preoccupazioni, si volta verso Kemal con sguardo interrogativo. Cerca di capire se Kemal abbia dei sospetti, ma lui sorride enigmaticamente, senza esplicitare i suoi pensieri. Un semplice ringraziamento a Tariq per essersi occupato della multa suona come una promessa velata di indagare sulla sua origine. Hussein, nel tentativo disperato di allontanare i fantasmi che infestano la cena, propone di parlare di altro. Ma il suo nervosismo è palpabile, contagiando l'atmosfera. Cerca di distogliere l'attenzione dalla multa e dai segreti che la circondano, ma il peso invisibile grava su tutti i presenti. Zainab è pronta per uscire, ma Kemal la blocca con uno sguardo severo. La sua autorità è innegabile. Zainab vorrebbe vivere la sua vita da ragazza libera, ma Kemal si oppone con fermezza. Non può permetterle di correre rischi in una città pericolosa. La sua decisione è categorica. Zainab resterà a casa. Tariq cerca di mediare, ma Kemal è irremovibile. La responsabilità di Zainab grava su di lui e non può permetterle di mettere a repentaglio la sua sicurezza. Zainab, esasperata dal divieto, urla la sua frustrazione. Si sente trattata come una bambina, privata della sua libertà. Le lacrime sgorgano dai suoi occhi mentre si chiude in camera, rifugiandosi in un silenzio carico di dolore e ribellione. Kemal e Tariq discutono animatamente. Kemal è tormentato dalla preoccupazione per la sorella. Non può permetterle di esporsi a pericoli in una città che nasconde insidie. La sua protezione è fondamentale. Tariq, pur comprendendo le preoccupazioni del fratello, è consapevole che Zainab ha bisogno di vivere la sua vita. Non può tenerla rinchiusa per sempre. Cerca di trovare una soluzione che tuteli la sicurezza di Zainab senza privarla della sua libertà. Hussein con voce stanca ma ferma pone fine alla discussione. La decisione è presa. Zainab non uscirà quella sera. Zainab è sola nella sua stanza. La luce soffusa che filtra dalle tende crea un'atmosfera tesa e malinconica. Scruta il telefono, sapendo che non può uscire di casa. Ma poi arriva un messaggio rassicurante. Non importa. Aspetterò fino a domani. Nel frattempo, in cucina, Asu chiede il permesso a Fehime di andare nella stanza di Zainab. L'ho vista molto giù di morale, dice con preoccupazione. Fehime, ammirando il suo buon cuore, le concede il permesso con un sorriso. Asu ricorda le parole di Emir, che le aveva suggerito di diventare amica della famiglia di Kemal. Determinata, si dirige verso la stanza di Zainab. Quando entra, la trova distesa sul letto, ancora vestita e in lacrime. Con voce dolce, Asu le chiede «Sei innamorata?» Zainab non risponde, ma abbraccia Asu senza rivelare chi è l'oggetto del suo amore. Tra i singhiozzi, le spiega che non può uscire di casa nemmeno per andare al cinema. Asu sorride e le propone un piano. «Dirò alla tua famiglia che andremo al cinema insieme. Potrai incontrare questo ragazzo senza problemi». Zainab la guarda sorpresa. «Ma pensi che funzionerà?» «Sì, è una piccola bugia per amore che non farà male a nessuno», rassicura Asu. Zainab ricorda che anche Emir le aveva suggerito lo stesso di chiedere proprio ad Asu. Con un sorriso, Asu promette «Ti accompagnerò e ti verrò a prendere al cinema». Zainab accetta felice abbracciando Asu e ringraziandola. Più tardi Kemal invia un messaggio a Nian. «Devo vederti. Ci incontriamo nel bosco vicino al pozzo. Non accetto obiezioni». Nian riceve il messaggio e sorride felice. Nella penombra del bosco Kemal attende in silenzio. Nian arriva con un sorriso, ma nota subito la sua espressione cupa. «Perché sei così silenzioso?» gli chiede. Kemal la guarda negli occhi e le esprime i suoi dubbi. Sospetta che Emir sia coinvolto nell'omicidio. È sicuro che le cose non siano come sembrano e nota che Emir l'ha colpita proprio nel suo punto debole, o Zain, l'unico modo per conquistarla. Nian scuote la testa. «Non voglio pensarci, non ci sono prove per dimostrare nulla. Ti prego, non darmi false speranze che possiamo tornare insieme. Non ce la farei». Kemal la abbraccia con forza. «Voglio solo aiutarti e salvarti». Lei si scioglie dall'abbraccio e dice «Non posso essere salvata. Tra noi c'è una sola differenza». Kemal la interrompe. «La differenza è che io ho ancora speranza mentre tu no». Nian replica «Ho visto le immagini, sono chiare. Tu non le hai viste, quindi parli come se ci fosse ancora una possibilità». A quel punto, Kemal le chiede «Hai ancora i video?» Nian annuisce. «Sì, ho fatto una copia perché sapevo che non ti saresti fermato». Gli consegna una chiavetta USB implorandolo «Non trascinarmi in una speranza senza fine». Poi, affranta, se ne va nel buio del bosco mentre Kemal rimane lì, stretto nella presa delle sue nuove certezze. Mentre la notte avvolge la città, Kemal torna a casa, la mente divorata dai dubbi e il cuore infiammato dalla sete di verità. Si siede al computer e con occhi avidi inizia a esaminare i filmati uno per uno, analizzando ogni singolo secondo. Cerca disperatamente un indizio, anche il più piccolo, che possa incriminare Emir dal momento in cui sono entrati in casa fino a quando hanno seppellito il cadavere. Ma il giorno seguente un terremoto scuote le fondamenta della holding. Galip indice una riunione straordinaria per ripristinare il potere decisionale di Emir nell'azienda. La tensione è palpabile, i presenti trattengono il fiato mentre votano uno dopo l'altro a favore di Emir. Galip si congratula con lui, ma qualcosa non quadra. Emir, poco interessato alla vittoria, invia un messaggio a Zainep per organizzare un incontro in un lussuoso hotel quella sera stessa. Promette una sorpresa indimenticabile, ma il suo vero obiettivo è colpire duramente la sorella di Kemal. Nel frattempo, la serata di Kemal è intrisa di ansia e mistero. Torna a casa, telefono in mano, chiedendo notizie con urgenza. Cosa starà tramando? La tensione cresce a casa Zainep. Emir si pavoneggia soddisfatto dei suoi successi contro Kemal, accusandolo di aver trascurato questioni cruciali durante la sua assenza, come il problema dell'acqua nei villaggi. Ma Kemal conosce bene il suo nemico e sa che non dimenticherebbe mai un tema così importante. Anche Nian osserva tutto con scetticismo, ma rimane in silenzio. La sua espressione tradisce preoccupazione. All'improvviso Vildan interrompe il silenzio proponendo di guardare un film tutti insieme. Chiede persino a Emir di unirsi a loro. È tanto che non trascorriamo del tempo come una vera famiglia. Accetta Emir con un sorrisetto ironico, lanciando poi una frecciatina velenosa. Dovremmo invitare anche zia Leila. Il gelo avvolge la stanza, ma la tensione viene spezzata dalla suoneria del telefono di Emir. Risponde rapidamente, abbandonando la stanza. Più tardi, l'oscurità cala su Villa Sezzin e una figura vacilla nell'ombra. È Salì, il cui cuore è un campo di battaglia, diviso tra rabbia e dolore. Quando passa davanti alla villa, viene sopraffatto da un raptus di follia. La furia lo consuma e inizia a urlare, a battere sul cancello come un forsennato. Le immagini di Ozan che brucia la sua barca e gli porta via Zainep gli affollano la mente, lo fanno impazzire. Visibilmente ubriaco e fuori controllo, continua a colpire il cancello con calci e pugni. Kemal dalla sua casa sente le urla strazianti e corre immediatamente verso Villa Sezzin, mentre all'interno della villa tutto è caos. Emir ordina a Ozan di rimanere dov'è e si prepara a uscire, seguito da Nyan. Kemal arriva e trova Salì in uno stato pietoso, completamente fuori di sé. Cerca di calmarlo, di fermare il suo sfogo di rabbia. Poi Emir esce dalla villa con uno sguardo sprezzante e chiede a Kemal di badare al suo amico. Ma Salì, accecato dall'odio, inveisce contro Emir con rabbia, accusandolo di essere la causa di tutti i suoi mali. Kemal, paziente e comprensivo, si scusa e si allontana con Salì mentre Emir rientra in casa con Nyan, minimizzando l'accaduto. «È solo una questione di poco conto», dice con indifferenza. Nel frattempo, Kemal cerca di raggiungere un accordo con Salì, ma il suo amico è troppo disperato per ascoltarlo. Con gli occhi pieni di lacrime e la voce tremante, Salì urla di aver perso la donna che ama e la sua barca, l'unica cosa che rappresentava tutta la sua vita. Kemal, con parole rassicuranti, cerca di consolarlo. «Compreremo una barca ancora migliore e troverai una ragazza che ti amerà davvero». Ma Salì non può sentirlo. Accecato dalla rabbia e dal dolore, accusa Kemal di non capire la sua situazione e se ne va, sempre più a pezzi. La notte avvolge Salì in un abbraccio gelido, mentre l'amarezza e il senso di tradimento lo divorano dall'interno. Nella lussuosa villa dei Sesin l'atmosfera è densa di tensione. Nyan vuole parlare privatamente con suo fratello Ozan, ma Vildan le sbarra la strada chiedendo con voce autoritaria «Cosa hai detto a tuo fratello?». Ozan, già attormentato dai sensi di colpa e dalla gelosia, esplode in un impeto di rabbia e disperazione. Con voce tremante e sguardo febbrile confessa «Sì, ho dato fuoco alla barca di Salì e sì, sono innamorato di Zainep. Ho perso completamente la testa per lei. Sono divorato dalla gelosia. Per notti intere non sono riuscito né a dormire né a mangiare e nessuno di voi si è mai preoccupato minimamente di come stessi io». Onder e Nyan lo osservano con dispiacere, ma Ozan continua a inveire, lasciando che il rancore si riversi in un fiume di parole «Sono stanco così, come se avessi un debito con voi. Voglio solo un po' di sostegno, qualcuno su cui poter contare, una spalla su cui appoggiarmi». Con le lacrime che rigano il suo volto rassicura sua madre con voce rotta «Quella ragazza della periferia, come la chiami tu, non mi vuole, non mi guarda nemmeno in faccia». Emir allora cerca di parlargli, ma Ozan rifiuta di ascoltare chiunque. «Questa casa è un cimitero dove nessuno vive davvero», grida con voce colma di rabbia e frustrazione prima di uscire di casa sbattendo la porta. «Ma prima di andarsene, promette con voce tremante, dimostrerò a tutti quanto voglio davvero Zainep e nessuno potrà fermarmi». Dopo la sua partenza, Nyan informa la famiglia che quella notte dormirà da sua zia Leila, lasciando tutti sbigottiti. Emir, infastidito, le fa notare che questo comportamento non gli piace affatto, ma Nyan risponde gelida «Non mi interessa cosa piaccia a te, voglio solo pensare alla mia vita». Se ne va lasciando Emir furioso, mentre accusa i coniugi Setsin di aver fatto scappare sua moglie durante la notte. Intanto, Salih, completamente ubriaco, vaga senza meta per le strade di Istanbul, attirando l'attenzione di due loschi individui che si avvicinano a lui con fare minaccioso. «Hai coraggio a prendere di mira le case a quest'ora», lo scherniscono sarcasticamente. Ma Salih, accecato dalla rabbia, li affronta con ferocia, chiedendo se siano gli scagnozzi di Emir. Questo scatena immediatamente una breve rissa, interrotta solo dall'intervento tempestivo di Kemal, che mette in fuga i due uomini, probabilmente inviati proprio da Emir. Invece di ringraziare l'amico, Salih continua a respingerlo. «Non puoi capirmi, vattene via!» Kemal, visibilmente dispiaciuto, chiama immediatamente Emir che sta bevendo nel suo studio sconvolto dalla partenza di Nyan. Vedendo il nome di Kemal sullo schermo, Emir risponde immediatamente con rabbia. Ma Kemal, furioso, inizia a sfogare tutta la sua ira. «Credi di poter controllare tutto e tutti, di governare il mondo come un burattinaio, ma non ti rendi conto che le cose possono cambiare!» Le parole di Kemal risuonano nello studio di Emir come un tuono, mentre la tensione sale a livelli inimmaginabili. Mentre la notte avvolge la città, Kemal cammina per strada, determinato a mettere un freno alle azioni di Emir, lo incita ad affrontare i suoi problemi da uomo e a smettere di ferire le persone attorno a lui per ottenere ciò che desidera. Emir risponde con arroganza, «Non puoi affrontarmi!» Ma Kemal senza esitare replica, «Siamo già in guerra, Emir. Se hai un minimo di dignità, smettila di colpire chi mi sta vicino e affronta le tue sfide direttamente con me.» La conversazione si infiamma e Kemal conclude con veemenza, «Se nessuno ti ha mai insegnato cosa significa essere un uomo, lo farò io.» Poi chiude la telefonata lasciando Emir nel suo studio, avvolto nella penombra, con la mente in ebollizione. Sorseggiando il suo whisky, Emir riflette su quella chiamata, realizzando che non ha ancora inflitto un vero colpo basso. Senza indugio, chiama Tufan, il suo collaboratore di fiducia, e lo accusa con rabbia di non essere capace di trovare qualcuno per sbarazzarsi di Kemal. Senza concedergli il tempo di replicare, chiude bruscamente la chiamata. Nel frattempo, Nian bussa alla porta della casa di sua zia Leila. Quando Leila apre e vede la nipote, un sorriso radioso le illumina il viso. «Posso passare la notte da te?» chiede Nian. «Sei sempre la benvenuta», risponde Leila, facendola accomodare. Desiderosa di sfuggire ai problemi familiari, Nian trova rifugio nella calorosa accoglienza di sua zia. «Raccontami degli anni che abbiamo perso», le chiede con voce tremante. Ma Leila, con un velo di tristezza negli occhi, risponde. «Non servirebbe a nulla, quegli anni sono ormai passati». Nian però insiste, determinata a recuperare il tempo perduto. Leila, accarezzando la mano di Nian, la invita a non ripetere il suo stesso errore. «Non fuggire dalle cose che contano davvero». «Ma proprio in quel momento qualcuno bussa alla porta». «Forse qualcuno vuole riportarti a casa», ipotizza Leila, «o forse è qualcuno che vorresti vedere». È Kemal e quando Leila apre la porta scherza. Sembra proprio la seconda opzione. Nian, sorpresa e felice, si alza di scatto mentre Kemal entra nella stanza. Si salutano calorosamente, ma un leggero imbarazzo aleggia nell'aria. Dopo un momento di gioia condivisa, Leila si allontana lasciandoli da soli. Kemal rompe il ghiaccio, riprendendo il discorso suo Zan. «Sono certo che Emir sia coinvolto, ma Nian non vuole sentirne parlare e con un tono deciso gli chiede di chiudere l'argomento». Kemal annuisce, rispettando i suoi desideri, ma la tensione tra di loro rimane invariata, come un filo sottile pronto a spezzarsi. Kemal si siede con aria cupa, lo sguardo fisso nel vuoto. Nian si avvicina a lui, rompendo il silenzio teso con una domanda carica di sospetto. «Hai bruciato i filmati, come ti avevo chiesto?» Le sue parole riaprono la ferita di un passato doloroso, riportando alla luce la minaccia incombente su Emir. Kemal, con voce roca e piena di amarezza, le confessa le sue preoccupazioni. Forse chi ricatta Emir ha capito che la verità non è come lui la racconta. Intanto, Zainep vive un sogno ad occhi aperti. Emir, con la sua voce suadente, le mostra attraverso il computer la sua splendida villa a Santorini, dove immagina di trascorrere l'estate insieme a lei. L'entusiasmo di Zainep è contagioso. La sua voce risuona di gioia mentre promette di raggiungerlo presto. Ma prima di terminare con la trama, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube News Soap. Mentre la sera cala su Istanbul, a casa di Leila si respira un'atmosfera diversa. Il gruppo di amici si riunisce per una serata di giochi e Leila propone di animare la serata con un classico intramontabile, obbligo o verità. L'attenzione si concentra su Kemal che sceglie la verità. La domanda che Nian gli rivolge attraverso Leila è tagliente come una lama. Mi ami ancora? Kemal resta in silenzio per un attimo, combattendo contro i suoi sentimenti. Poi, con voce tremante, ammette «Sì, Nian, ti amo ancora moltissimo, ma l'amore non basta». Un velo di tristezza cala sui suoi occhi mentre pronuncia queste parole. Nian, però, lo guarda con un sorriso enigmatico che nasconde un turbine di emozioni. È il turno di Nian. Sceglie coraggio, lanciando una sfida inaspettata. Nian, voglio che tu inviti Kemal a ballare. Nian, sorpresa dalla richiesta, non esita e si rivolge a Kemal. Vuoi ballare con me? Kemal, colto alla sprovvista, rifiuta con un gesto deciso. Nian, però, non si arrende. Si siede accanto a lui e con tono ironico, quasi minaccioso, sussurra «Se non balli con me, ti uccido!» Un brivido percorre la schiena di Kemal, ma non può resistere al fascino magnetico di Nian. Si alza in piedi e con un sorriso malinconico la invita a ballare. I loro corpi si muovono a ritmo serrato, avvolti da una melodia che sembra raccontare la loro storia tormentata. Un ballo che diventa confessione silenziosa, un momento di intensa complicità che entrambi vorrebbero non finisse mai. Vildan, con il cuore straziato dal dolore di aver perso l'affetto dei suoi figli, trova conforto nelle parole rassicuranti di Onder. Lui le ricorda che in questo momento delicato la cosa più importante è avere pazienza e aspettare che Nian e Ozan ritrovino la fiducia in lei e decidano di riavvicinarsi. La speranza, seppur flebile, rimane accesa nel suo cuore. Nel frattempo Kemal, Nian e Leila trascorrono un momento di serenità in giardino, sorseggiando tè e scambiando risate complici. L'atmosfera è carica di una dolcezza malinconica, come se tutti e tre fossero consapevoli della precarietà di questo momento di tregua. Nian, sopraffatta dalla stanchezza, si addormenta sul divano. Kemal la osserva dormire, rapito dalla sua bellezza e dal dolore che si intravede nei suoi lineamenti. Un desiderio irrefrenabile di accarezzarle i capelli lo assale, ma resiste, consapevole che un simile gesto potrebbe compromettere la fragile tregua tra di loro. Il giorno dopo i ruoli si invertono. Kemal è immerso nel sonno mentre Nian lo osserva. Con un gesto delicato gli accarezza i capelli, un gesto pieno di tenerezza e affetto. Kemal si sveglia di soprassalto e Nian, con voce triste, gli ricorda che il loro sogno di felicità è ormai finito. È tempo per lei di tornare alla sua prigione, un luogo di dolore e costrizione. Kemal cerca di convincerla che non è obbligata a subire questo destino, che può scegliere la libertà al suo fianco. Ma Nian è irremovibile, le cose non possono cambiare e ogni suo tentativo di illudersi è destinato a fallire. Gli chiede di bruciare la chiavetta USB che contiene le prove del ricatto, l'unica via di fuga per entrambi. Con il cuore spezzato, Kemal la consente e la guarda allontanarsi, lasciandolo solo con i suoi dubbi e le sue speranze ormai flebili. Intanto, Kemal riceve una telefonata da Akhi che gli fa notare come l'incidente al villaggio sia stato chiaramente un attentato alla sua vita. Kemal, pur consapevole del pericolo che lo circonda, non si lascia intimorire. È determinato a trovare il modo per smascherare i suoi nemici e uscire da questa situazione infernale. La sua tenacia e il suo coraggio non vacillano, alimentati dal desiderio di proteggere Nyan e di costruire un futuro migliore con lei. Mentre Kemal è impegnato a combattere la sua battaglia, scopriamo che Akhi si trova in ospedale in attesa di sottoporsi a un'altra seduta di chemioterapia. La sua malattia è grave e il suo corpo è debilitato dalle cure aggressive. Lo sguardo di Akhi è carico di dolore e rassegnazione, ma anche di una profonda determinazione a non arrendersi. La sua lotta contro il male è solo all'inizio, ma la sua forza interiore rappresenta un barlume di speranza in questo panorama desolante. Al villaggio la tensione è alle stelle. Gli operai cercano di riprendere i lavori, ma un gruppo di donne determinate a difendere le proprie case e la loro terra si posiziona davanti ai trattori per impedirglielo. Kemal, come promesso, si fa carico della situazione e si rivolge alle donne con parole di rassicurazione. Vi ho già detto che mi occuperò di tutto. Abbiate fiducia in me, troveremo una soluzione. Mentre cerca di calmare gli animi, Kemal nota suo fratello Tariq in lontananza. Lo sguardo di Kemal si carica di rabbia e incredulità. Si avvicina a lui e con voce tonante gli chiede cosa ci faccia lì. Tariq, con fare arrogante e sicuro di sé, risponde di essere stato mandato da Emir come supervisore del progetto. Con tono sarcastico fa notare a Kemal un'irregolarità nei lavori, insinuando che sia colpa sua. Kemal non ci sta e replica con fermezza. Tutto questo è stato orchestrato da Emir per mettermi in cattiva luce, ma la pagherà cara. Kemal guarda Tariq con disprezzo e gli dice Adesso mi stai vendendo al nostro nemico. Comunica pure a Emir che da questo momento in poi sono io a comandare qui. Poi, rivolgendosi ai cittadini del villaggio, li invita ad unirsi a lui nella lotta contro Emir e ad avviare una causa legale per difendere i loro diritti. Nel frattempo, ignaro di quanto stia accadendo al villaggio, Emir organizza una conferenza stampa fuori dalla sua azienda. Circondato dai giornalisti, assume un'aria di finta preoccupazione e dichiara Durante la mia assenza, il responsabile del progetto per la centrale termoelettrica Kemal Soidere ha dimostrato una negligenza colpevole, causando notevoli danni a tutti i cittadini. Ho deciso di prendere personalmente in mano la situazione per avviare al più presto i lavori e ripristinare la normalità. Le sue parole, ipocrite e piene di menzogne, risuonano come un'offesa per Kemal e per il villaggio intero. Kemal, determinato a smascherare le macchinazioni di Emir e a difendere il suo popolo, si reca in tribunale insieme ad alcuni cittadini per presentare un ricorso legale contro il progetto della centrale. La sua voce è ferma e sicura mentre si rivolge al giudice. Ho fiducia nella giustizia. So che vinceremo questa battaglia e che la verità trionferà. Tufan, con un pizzico di malizia, informa Emir che Kemal ha deciso di passare all'offensiva. Ha presentato una denuncia sia contro di lui che contro la Holding. Questo significa che ora le loro mani sono legate e il progetto della centrale termoelettrica è temporaneamente sospeso. Emir, accecato dalla rabbia, urla che se lo merita, riferendosi a Kemal e corre via per sfogare la sua frustrazione. Non appena ha la possibilità, chiama Zainep che nel frattempo si trova in macchina con Asu diretta verso il cinema. Asu, ignara di chi sia al telefono, pensa che Zainep stia per incontrare il suo fidanzato. Kemal intanto si reca nel quartiere di Zair e con un gesto definitivo getta la chiavetta USB contenente le prove del ricatto nel fuoco. Le fiamme divampano, consumando per sempre il segreto che tanto lo tormentava. Zair lo raggiunge e osserva la chiavetta che brucia, avvolta da una luce sinistra. Kemal, con sguardo serio e voce cupa, le chiede «Se sospettassimo che qualcuno sia stato ucciso, quale sarebbe la prima pista da seguire?» Zair, sorpreso dalla domanda inaspettata, riflette per un attimo e poi risponde «Innanzitutto cercherei l'arma del delitto e ne esaminerei le impronte digitali. Poi cercherei il corpo della vittima, perché senza un cadavere non c'è omicidio». Le parole di Zair colpiscono Kemal come un fulmine a ciel sereno. In un istante, la sua mente rielabora i fatti, mettendo insieme i tasselli del puzzle. Un'idea terribile prende forma nella sua mente e se la tomba della ragazza uccisa da Ozan fosse vuota, ringraziando Zair per avergli involontariamente aperto gli occhi, Kemal si allontana, determinato a scoprire la verità. La notte cala su Istanbul ed Emir raggiunge Zainep al cinema, pronti a trascorrere la loro prima e unica notte insieme. Ma l'ombra del dubbio e del mistero aleggia su di loro. La quiete di questo momento romantico è solo un'illusione, destinata ad essere infranta dal peso dei segreti inconfessabili e dalle rivelazioni sconvolgenti che li attendono nelle prossime puntate. La tomba di quella ragazza è vuota? Volete sapere come continua? Scrivete qui sotto Sì, io sono Isabella e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale YouTube News Soap.